Posso usare il mio jolly? Prima di tutto vogliamo un'Europa che apparterà i suoi popoli, un'Europa dei popoli, una cosa che vuol dire che sosterremo la democrazia, la rafforzeremo e la partecipazione. Il Parlamento europeo prenderà le decisioni importanti, i cittadini decideranno per le questioni importanti con dei referendum, non con delle porte chiuse le decisioni, non più destrutturazione della volontà popolare. Seconda cosa, cercheremo subito di mandar via la troica dall'Europa, la catastroica, la troica che rovina, faremo una convenzione europea per trovare una soluzione vivibile per il debito, per uscire dalla crisi con solidarietà, con coesione sociale e democrazia.